Dopo i fatti avvenuti domenica scorsa nella curva sud dell'Olimpico, dove alcuni tifosi della Lazio si sono resi protagonisti di scritte antisemite e hanno lasciato adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma, gli irriducibili biancocelesti hanno rinunciato alla trasferta di Bologna, e la squadra è entrata in campo con magliette antirazziste. In più gli undici giocatori laziali hanno reso omaggio alla curva del Dallara, intitolata ad Arpad Vejels, allenatore ungherese di origini ebraiche morto in un campo di concentramento.